51 e qui ancora Semeraro 4.32, ce la fa anche lei la terza prova il terzo tentativo vale per tutte vale bene per tutte arriva anche per lei prova riuscita attualmente nella classifica c'è in testa Elisa Molinarolo che ha fatto 4.32 senza alcun errore alla seconda prova Sonia Malavisic è seconda, 4.32 la seconda prova e poi terza pari merito Giulia Valletti-Bornini e Francesca Semeraro alter atletica all'occo rotondo per lei, Semeraro e per Giulia Valletti-Bornini Fiamme Gialle Simoni è entrata in gara a 4.27 poi ha deciso di passare 4.32 probabilmente si ripresenterà a 4.37 la primatista italiana